Una schiarita all'orizzonte, la questione demaniale delle case di Riovivo Marinelle a Termoli sarà risolta da una nuova linea di demarcazione che sanerà di fatto i decennali contenziosi, fitta all'interlocuzione dell'amministrazione comunale del sindaco di Termoli Francesco Roberti con gli organismi centrali preposti. Tranno molto i residenti potranno tirare un sospiro di sollievo dopo anni di dispendiose battaglie legali nelle quali sono stati ritenuti abusivi, nonostante abbiano compiuto sacrifici e numerosi iter per vedere le proprie case riconosciute a tutti gli effetti come di proprietà. Gli incontri romani sono stati diversi fino al confronto con una delegazione di cittadini di Riovivo in sala consigliare a Termoli. C'erano il sindaco Francesco Roberti, il consigliere comunale nonché consulente del ministro Salvini Michele Marone che ha interessato proprio il ministero delle infrastrutture e il consigliere Nicola Balice che da sempre segue le vicende che interessano i residenti di Riovivo. In sostanza il sindaco ha riferito ai cittadini presenti che Demanio Marittimo e Agenzia delle Entrate daranno esecuzione alla sentenza della Corte di Cassazione che ha già dato ragione ai residenti del quartiere di Riovivo Marinelle e che verrà riassunta in Corte d'Appello. Sarà nominato un tecnico che dovrà tracciare una nuova linea di demarcazione tenendo però conto delle proprietà già esistenti. L'Agenzia Nazionale del Demanio cristallizzerà la nuova linea sdemanializzando così le aree edificate. Questa conclusione dovrebbe mettere tutti d'accordo. A quel punto con la definitiva e necessaria pronuncia giudiziaria il nuovo tracciato demaniale non ricomprenderà più le proprietà già accatastate e oggetto di contenziosi per troppo tempo. Un lieto fine e burocrazia permettendo a cui tutti sperano di arrivare nel più breve tempo possibile.